buongiorno a tutti bentornati sul mio canale innanzitutto benvenuti e benvenute a tutti i nuovi iscritti un bacio grandissimo vi devo ringraziare perché siamo già intorno ai 308 abbiamo superato i 300 in meno di un mese praticamente sul canale vi ringrazio davvero tanto per il vostro affetto e per i bei commenti che mi lasciate sotto ogni video e per l'attenzione e l'entusiasmo che dimostrate nei confronti dei miei contenuti grazie sempre e mi raccomando se avete consigli suggerimenti scrivete nei commenti io sono tutta orecchi pronta ad esaudire i vostri desideri se ne avete se sono in grado se posso e così al nostro sempre piacevole scambio perché questa è una community cerchiamo di fare community anche all'interno di questo spazio virtuale allora oggi andiamo subito a bombazza perché vi devo presentare il mio acquisto che vi avevo annunciato nel video precedente di cui vi lascio il link si tratta dell'acquisto della nuova palettina lanciata da murack qualche giorno fa ne ha lanciate due la daily mood con i colori caldi è la good vibes dai colori freddi quale posso aver preso io la daily mood quella con i colori caldi questa qui che ora vi faccio vedere subito perché già ho provato a usarlo un po e quindi sia un po' impolverata e ora vi faccio qualche considerazione questa qui è la daily mood la palettina con nove ombretti caldi di cui tre shimmer e tutti il resto opachi ve la faccio vedere perché ecco si arriva con lo scatolino con la scritta daily mood dietro tutti i colori i nomi dei colori e la composizione della palette e poi la palette è con questo decoro vedete qui nella cornicetta dietro c'è scritto soltanto il pao è il nome della palettina e nel vetrino sporco perché ora vi spiego c'è soltanto la sovrimpressione del brand del logo del brand allora questi sono i colori questi qui sono i colori nella prima fila sono tutti opachi nella seconda ci sono due shimmer o perlati e un opaco e nella terza ancora due opachi che non ho parlato i colori sono tutti caldi e mi è arrivata nel suo pacchettino insieme a un rossetto liquido che ho ordinato che ora vi dico qual è perché lo sto indossando e anche il make up okey che ho realizzato è realizzato con la palettina daily mood appunto e vi arriva con il cartoncino mulac thank you e poi con il codicino da poter inquadrare col proprio cellulare per avere tutte le informazioni su mulac e sui prodotti acquistato e mi è arrivato un altro dei degli oli olio siero per capelli della linea mulac air lab che sta per partire proprio in questi giorni io nel mio vecchio ordine avevo già ricevuto un campioncino di quest'olio siero per capelli al mi pare fosse al burro di karité favoloso l'ho trovato davvero favoloso e con un profumo paradisiaco ora proviamo anche questo e vi saprò dire sono molto curiosa andiamo alla nostra palettina una piccola e brevissima considerazione immediatamente su come mi è arrivata mi è arrivata sana in alcuni gruppi su facebook che frequento ho capito che sono stata fortunata perché a molti specie la good vibes quella fredda è arrivata con i colori shimmer sostanzialmente frantumati la mia è arrivata con i colori shimmer sani però se osservate questo qui potete vedere che è un pochettino staccato dalla base della cialda quindi probabilmente insomma il motivo è che probabilmente la consistenza di questi colori shimmer perlati è davvero molto setosa ora ve ne parlerò davvero molto luminosa la texture è molto luminosa e probabilmente sono davvero con una texture molto particolare che va però perfezionata per il trasporto tramite corriere perché visto che mulac al momento spedisce soltanto cioè si può acquistare sono online insomma è importante che gli ombretti non arrivino sfrantumati al di là della delicatezza dei corriei maggior o minore nel trasportare la merce le palettine sono tutte depottabili cioè sono le palettine le cialdine sono tutte depottabili si possono staccare sollevando vi faccio vedere faccio sinistra sollevando il laterale ecco si è staccata e poi si riattacca magneticamente questi spazi liberi appunto tra l'una e l'altra consentono appunto di prendere con facilità la panetta questa la trova una cosa molto pratica la cialda questa la trova una cosa molto pratica gli ombretti possono essere acquistati anche singolarmente al prezzo di 5 euro rotti uno io ho approfittato dell'offerta lancio prendendolo intorno ai 27 euro adesso costa intorno ai 32 euro e 90 se ricordo bene quindi come vedete appunto lo specchietto qua il vetrino è un po sporco perché lui ha perso qualche frammentino nel trasporto però sostanzialmente la palettine è arrivata sana ma questa considerazione va fatta quindi un piccolo rischio so che mula che se glielo segnalate vivi 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 vi sostituisce le chalde rotte però insomma è una cosa piccola cosa che va perfezionato una cosa che accompagna la palette che ho levato per non farla cadere è questo foglio di acetato faccio vedere con i nomi di tutti gli ombretti che si può spostare appunto all'occorrenza e poi rimettere per avere per potersi orientare con i nomi di simboli ombretti ombretti andiamo a dirvi innanzitutto le mie prime impressioni su questa palette nel suo insieme la trova stratosferica e i colori perlati shimmer sono davvero molto luminosi quasi a specchio se non so se riuscite a vedere quello che indosso in palpebra mobile si chiama daddy e questo no si chiama pardon red bash questo qui ed è davvero un rame liquido a specchio e quindi davvero nulla da dire sulla consistenza se non il fatto che devono essere perfezionate per il trasporto appunto tramite corriere sono tutti gli ombretti anche gli opachi molto scriventi gli opachi alcuni in particolare uno due e tre li trovo un pizzico più polverosi tra in diagonale partire dal marrone ma nulla di irreversibile ecco nulla di tragico i colori sono tutti modulabili sfumabilissimi ben costruibili e consentono di realizzare sia dei makeup da giorno che più strong da sera la trovo una palette secondo me adattissima per gli incarnati neutro caldi e caldi e secondo me è far affaville in in estate con un po di abbronzatura il makeup che ho realizzato è stato fatto appunto con lui utilizzando lui che è red bush e poi un mix tra yummy e poodle qui nella impiega è appena sopra il classico bistro quindi il classico colore marrone scuro in angolo esterno per dare tridimensionalità anche un mix tra yummy e poodle applicato in rima esterna inferiore e poi questo bianco panna quasi latte wedding planner e l'ho applicato qui come illuminante all'angolo interno ho utilizzato lifestyle il terzo colore shimmer che è uno champagne ora vi vado a parlare a gli applicati con un primer sotto non è questo il primo makeup che realizza c'è nel video il cui link vi ho lasciato all'inizio video bababia come mi sono spesso il video precedente c'è un breve intermezzo dove indosso un altro makeup realizzato con questa palette che dura la mattina fino a sera ovviamente applicando il primer ombretto prima ma il primer occhi prima ma io preferisco in tutti i miei makeup utilizzarlo quello che potrebbe fare i colori che potrebbero fare impressione sono uno e due e si chiamano la via rosa e bistro e scusate scusate la via rosa e barbecue bbq in realtà vi dico barbecue scusate la via rosa e anche in parte qui se vedete che ho questo rosa corallo caldo quasi un po terracotta quindi non vi devono spaventare da cialda perché sono molto costruibili molto sfumabili se ne prendi un pizzichicchio e lo sfumi piano piano fa un bellissimo effetto sfumato che c'è e non c'è addirittura io la via rose l'ho utilizzato oggi come blush ho provato credo proprio che bbq non lo potrò utilizzare come blush però e volevo fare l'esperimento e devo dire è ben riuscito allora andiamo lì a sbucciare man mano ve ne parla nel dettaglio il primo è wedding planner questo diciamo che sono trovo colori abbastanza originali tutti quanti 1 e 2 forse sono i più comuni perché sono perché sono colori utili di quei colori per fare l'angolo per fare l'arcata sopraccigliare il bianco o lui per fare la tridimensionalità che bene o male sono dei jolly non il palette andiamo a sbucciare poi al limite se avete delle domande da farmi riguardo sbucci e comparazioni io al limite poi nel blog farò con più calma un posto con dei sbucci comparativi per farvi vedere se qualcuno di questi ombretti somiglia a qualche altra cosa che magari voi avete o anch'io vi accenno già che lui che somiglia se consomigliava secondo me a tribeca non ci somiglia di nabla non ci somiglia neanche un po diverso diciamo il test che ho fatto con gli ombretti delle varie palette mio possesso è risultato top nel senso che non mi sembra di avere nulla di simile al di là di questi due colori ovviamente allora wedding planner il bianco è un bianco sporco completamente matte e opaco utilissimo da utilizzare in arcata sopraccigliare o se volete anche all'angolo interno diciamo che i colori matte sono un pizzichicchio più polverosi ce ne sono alcuni un po più polverosi di altri wedding planner non è tra i più polverosi dopodiché abbiamo poodle questo beige caramello molto molto delicato pensavo somigliasse a caramel di nabla no caramel di nabla già c'è quasi utilizzato nel mio make up stash perché mi risulta troppo caramello questo è quasi un caramello di cocca quasi color carne appena ci si abbraccia forse non si potrà utilizzare più tanto è qui ma in questo momento lo trovo un colore molto bello per scaldare il colore applicato in piego per sfumarlo bene ovviamente quasi si confonde con il mio colorito però l'obiettivo è quello l'obiettivo è scaldare facendo il suo lavoro quasi in silenzio poi andiamo a yummy che è il primo colore opaco più polveroso che vi faccio vedere che è un questo un marrone medio rossiccio quasi terra è questo scusa quasi un marrone rossiccio medio di media intensità quasi verso il terra bruciata questo da qui molto modulabile e costruibile e sfumabilissimo guardate che bel colore molto delicato e sfumabile che io utilizzo facilmente in piega ho appena sopra la piega per scaldare la sfumatura che faccio è un po' polveroso però come per la cat fondi non arriva a fare fallout e lo trovo molto modulabile comunque setoso non fa trito ecco quando lo si applica e l'ho trovato bellissimo come colore dopodichè andiamo sto cercando le salviette struccanti sorry andiamo io ve li faccio prima nella mano gli swatch come voi sapete io sono un po' parda dice si parda a fare gli swatch nel braccio poi vedete parda significa non sono proprio bravo a fare gli swatch sul braccio poi farò una ripresa una carrellata finale dopo intanto accontentatevi di questi intanto vi faccio fare un tuffo nello slang siculo palermitano parda parda se vi piace lo potete dare quando una cosa è una persona è un po' neglia un po' che è pure siculo quindi non vi chiarisco l'idea un po' così impacciata poco pratica non dico inutile non è in grado ma ecco andiamo poi a finita parentesi quark andiamo a daddy daddy è il primo dei colori perlati shimmer che sto per farvi vedere tutti questi colori shimmer hanno una consistenza setosissima ragazzi e sono a specchio guardate di che parlo guardate questo è daddy che è questo colore beige caldo beige medio tortora oggi non so descrivere i colori questo guardate guardate che bello e guardate quanto è luminoso una favola di colore un marrone beggiolino molto molto pieno di riflessi molto luminoso una tonalità media non molto scuro poi abbiamo quello uno dei due colori opachi che fa un po' paura potrebbe fare un po' paura questa è la via rosa che è una sorta di corallo questo opaco questo che vedete prelevando il prodotto sembra un po' polveroso gli opachi sono un po' più polverosi però si sboccia facilmente la cosa che vale per tutti questi ombretti è che tu li vedi nella cialda e ti fanno un po' paura tu li sbocci e viene una cosa molto sfumata quindi molto costruibile questo qui è la via rosa quindi vedete come sia in realtà un colore molto soft col quale tu puoi andare a costruire una sfumatura e stratificarlo questo corallo rossastro molto molto delicato io lo sto adorando ce l'ho su qui quindi si può indossare molto portabile che non vi spaventino questi colori in cialda perché poi applicandoli il risultato è molto più solto poi abbiamo red bush l'altro colore shimmer il secondo dei tre questo qui che è quello che indosso in palpebra mobile oggi anche lui questo è un rame a specchio anche lui guardate quanto è luminoso setosissimo è da stendere è pigmentatissimo ragazzi guardate come è a specchio questo è uno dei colori che secondo me in estate può far faville spero si riesca a vedere ecco qua e infine andiamo alla terza colonna la terza colonna comprende per primo BBQ che è il colore rosso 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 opaco il più spaventoso apparentemente della palette anche lui per quanto va bene è così quindi molto pigmentato poco poco polveroso però questo è lo swatch sul dito appena lo applicate questo è quello che intendo vedete che non è è pigmentato ma è costruibile non è pigmentatissimo come i perlati quindi è un colore col quale potete già dichiare è un rosso con forse qualche piccolo anche se è opaco risulta luminoso è caldo non so se si riesce a intravedere vedete che è luminoso qui però poi appena lo swatchate su mano questa resta questa questo alone di luce ma in realtà è un colore opaco molto modulabile molto costruibile lui per forse i coloriti più scuri potreste provare a usarlo come blush io al massimo ho potuto usare come blush lui perché mi è incarnato lui su di me fa i haidi andiamo poi a Lifestyle che è questo color shimmer champagne perlato champagne il terzo dei tre appunto dal finish perlato questo è un oro non so perché faccio tutti gli swatch con questo con quell'altro mi pare male con questo potrei anche usarlo Laura comunque questo anche lui luminosissimo che ho usato nel make up realizzato nel video precedente con quel con quell'intermezzo dove vi ho fatto vedere che avevo questo make up indossando la 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 bellissimo oro champagne luminosissimo infine abbiamo bistro che è il colore oparo e marrone per dare tridimensionalità al make up questo qui ho usato il dito indice questo qui che è il classico marrone da utilizzare per dare tridimensionalità allo sguardo per fare degli smogli per costruire proprio il make up e dargli profondità e questi erano i colori della daily mood l'inci degli ombretti è a base di ingredienti naturali sinceramente è una palette di cui vi consiglio l'acquisto innanzitutto perché è compatta se amate questi colori da portare con sé ovvio attenzione a portarla con sé perché se la sballonzolate troppo secondo me si frantumano le tre cialdine shimmer però la trovo favolosa dei colori tutti molto belli se amate questo genere di colori è una palette molto versatile tutti molto scriventi costruibili qualcuno ripeto un po' polveroso però nulla di insormontabile costa 32 euro adesso per cui dico sono sempre 60.000 lire vecchio conio però è una palette che se amate questi colori secondo me vi consiglio l'acquisto anche perché i colori shimmer sono a specchio davvero sono molto luminosi e per noi che abbiamo la palpebre mobile piccola la palpebre fissa cadente vi lascio il riferimento al mio video tutorial che ho fatto sull'argomento i colori luminosi in palpebre mobile aiutano parecchio fanno vedere questa palpebre benedetta che non c'è o quasi quindi dico fanno finalmente vedere un pochettino di luce in più su questa palpebre mobile quasi inesistente andiamo adesso vi ricordo che appunto dovrei fare gli swatch comparativi con altri ombretti quindi se avete qualche richiesta qualche domanda prima che faccia il posto sul blog lasciatemi nei commenti le vostre richieste così vedo se ho questi ombretti di cui mi richiedete i swatch di accontentarvi e farvi lo swatch comparativo anche di questi e farvi lo swatch comparativo con questi della palette se siete ancora indecisi sull'acquisto oggi parlo male delirio però perdonatemi ci tenevo a farvi vedere la palette e i suoi swatch e dirvi cosa ne pensavo anche se sono con un neurone che gira impazzito nel cervello a breve girerò anche un video get ready with me con questa palette così vi faccio anche vedere gli ombretti in azione io ho un argomento che mi ballonzola per la testa che sarebbe quello delle collaborazioni blog youtube aziende robe vari però se avete preferenze diverse fatemelo sapere anche questo nei commenti se volete che parli di altro in questo get ready with me benvenga mi fa piacere fatemi sapere su quali argomenti volete che incentri il video del get ready with me con la palette delineo poi ho acquistato anche perché volevo superare la sua ghia di 30 euro per avere una spedizione gratuita un altro rossetto liquido che non ho acquistato nella spedizione precedente mi sono mangiata le mani fino ai gomiti perché è un rossetto che è uno dei velvet ink nuovi di mulac che secondo me cambia tantissimo in base alla pigmentazione delle labbra di più indossa e quindi ero indecisa perché avevo visto che virava molto sul rosa che sembrava un colore quasi freddo poi mi sono determinato ho detto sai che ce lo prendo e ho preso fancy voi sapete il mio amore per questi rossetti liquidi ho fatto diversi video e vi lascio i link in info box o qui su mi sono decisa e ho fatto stra bene questo qui è fancy indossato che è un colore marsala con un pizzico di rosa però è decisamente un colore caldo specie su di me che tende a scaldare tutti i rossetti ora ve lo faccio vedere una piccola pecca di questo rossetto che mi è arrivato così guardate è un po' sporco nei contorni ora vedo di farvi vedere il perché la vedete l'aggiunzione l'aggiunzione che caratterizza la ghierina di questi rossetti la vedete ecco qui è un po' aperta se io faccio pressione con il pennellino dell'astuccio qui è proprio aperto è trasuda prodotto ecco è un piccolo difetto che non hanno gli altri velvet ink che ho probabilmente è qualcosa che si può risolvere Mulac se puoi perché dico si pasticcia tutto qui però dico non è nulla anche questo di risolvibile si spreca un po' di prodotto quello sì cioè non lo trovo un motivo valido per rendere il prodotto all'azienda o per contestarvelo però sicuramente un suggerimento all'azienda affinché rafforzi un po' questo punto di giunzione qui assolutamente sì perché si pasticcia e si perde un po' di prodotto che dirvi ve lo faccio vedere swatchato perché indossato lo vedete è un color marsala che quando lo swatchate sembra un po' più caldo poi si raffredda un pochino ma resta comunque un colore caldo eccolo qui il classico color marsala e qui quando è sbocciato di fresco si vede meno il rosa quel pizzico di rosa che c'è che viene invece più fuori dopo quando lo indossate e si fissa ciò avviene con i rossetti liquidi mulac non più di un minuto dopo rossetto molto confortevole come tutti i velvet ink mulac molto durevole texture sottile ed elastica non regge un pasto sapete cosa ne penso che cosa vi ho detto di questi vi ho già recensito questi rossetti liquidi quindi vi rimando a quel video perché comunque anche se non regge un pasto svanisce in maniera piuttosto omogenea lascia una piccola patina di colore non fa stacchi come se fosse un rossetto classico quindi lo potete rindossare stratificarlo oppure rimuovere del tutto e riapplicare bellissimo favoloso credo che sia un colore forse più invernale o autunnale che estivo però io in questo momento lo indosso anche perché trovo che stia molto bene col make up realizzato con la Daily Mood sono molto contenta dell'acquisto e basta bimbi belli e bimbe belle questo è quanto spero che questo video vi sia stato utile se è così spollisciate in su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto qui sotto c'è un iconcina che vi porta direttamente alla pagina di iscrizione al canale condividete il video se lo ritenete opportuno e noi ci rivediamo presto alla prossima un bacio grande e fatemi sapere mi raccomando commentate così so di cosa parlare nelle get ready with me e commentate per avere i diswatch comparativi alla prossima un bacio grande ciao ciao